Benvenuti a un nuovo video di Sistitriano e oggi vediamo come vedere la tv digitale terrestre senza antenna su una file stick oppure su un qualsiasi dispositivo Android o sul PC noi vedremo su Windows però è chiaro che i passaggi che faremo potremo farli anche sulla file stick con l'unica differenza che sulla file stick per installare Kodi bisogna usare un plugin cioè un'applicazione che si chiama Downloader, poi vi farò vedere, sigla iscriviti al canale Allora partiamo subito con il video Utilizzeremo un add-on di Kodi, innanzitutto qua siamo su Windows e andiamo a installare Kodi andiamo sul sito di koditv.download e qui come vedete c'è la versione di Kodi per tutti i sistemi operativi Allora che cos'è Kodi? Kodi è un'applicazione che consente di rendere multimediale il dispositivo su cui è installata per poter fare streaming di video, immagini, musica e poi è piena zeppa di add-on, addirittura può essere usata per giocare in retro gaming faremo diversi video su Kodi oggi vediamo come vede la TV ma poi vi spiegherò anche nel futuro quale altre possibilità ha Kodi potete per esempio agganciare ShareNFS, ShareSamba e magari avete un NAS in casa e poter vedere i film dal NAS senza dover avere un hard disk attaccato al TV oggi vedremo come vedere la TV digitale terrestre per chi non ha l'antenna, magari ha uno schermo possibilità di comprare magari un vecchio monitor io ne ho trovato uno a 20€, l'ho messo in cucina ci ho messo una file stick e vedo la TV in cucina senza avere l'attacco a antenna quindi scegliete innanzitutto la versione di sistema operativo noi il video lo faremo su Windows, ripeto ma poi vi farò vedere anche su Kodi come è installato clicco su l'installer a 64 bit e vado a lanciare l'installazione ok, next, agree next, lasciamo tutto selezionato e installiamo ok, possiamo fare run Kodi, finish e carichiamo Kodi Kodi si presenta in questo modo a sinistra avete il menu per accedere alle varie risorse video, foto ovviamente sono tutte risorse che voi dovete aggiungere perché per esempio Picture non c'è niente quindi per esempio se volessi aggiungere una sorgente di video potrei andare su Files aggiungi video come vedete io posso fare browse e o aggiungo una cartella del mio pc oppure posso aggiungere una share nfs una share samba magari dove ho dei film o dove ho delle foto e l'aggiungo qui e dopo di che io potrò vedermi i film direttamente su Kodi facciamo un breve esempio vado su dati video sto aggiungendo questa cartella è sul mio pc ma potevo farla anche una share nfs una share samba la chiamo video su pc c'è ok e mi compare qui come sorgente poi chiaramente se io selezionavo che questa directory aveva una conteneva dei film lui mi faceva anche la scansione mi scaricava anche tutte le locandine quindi se io andavo qui e mettevo movie lui andava a scaricarmi anche tutte le locandine e quindi va a fare uno scraping su internet delle locandine vabbè adesso questo non lo facciamo perché lo scopo del video è un altro una volta che voi avete aggiunto la cartella non dovete far altro che caricare i vostri video cliccandoci sopra ecco questo era un esempio ok ora invece andiamo ad aggiungere le risorse per vedere la tv in streaming io vi ho preparato c'è un sito dove c'è una guida che spiega come fare poi ve lo metto in descrizione una volta scaricato e installato Kodi andiamo ad aggiungere un repository e aggiungere una sorgente quindi copio questo sorgente come si aggiunge una sorgente? basta andare qui nelle impostazioni file manager vado ad aggiungere add source ok qui metterò il link che ho copiato faccio ok questa la chiamiamo vldtv quello che volete potete scrivere e la sorgente è stata aggiunta una volta aggiunta la sorgente poi andiamo su indietro quindi con esc addon e gli diciamo di installare da repository no scusate da zip file quindi addon installa from zip file sceglieremo innanzitutto bisogna abilitare l'installazione da sorgenti non sicure come android quindi installa zip file andiamo a scegliere la sorgente che abbiamo aggiunto prima e installiamo questo file zip repository.wldtv.zip dice addon installato adesso dobbiamo fare installa da repository e come vedete lui ha installato questa nuova repository wordly tv e andiamo ad installare dei video addons il wordly tv e facciamo installa diamolo ok nel mentre che installa vi voglio far vedere che c'è una community sviluppatori s3 codi addon si chiama s3 che diciamo è una community sviluppatori che sviluppa un sacco di addon per codi che poi vedremo nel futuro nei prossimi video che come vedete è powered by amazon s3 amazon s3 è un servizio di cloud storage a oggetti tipo google drive tipo one drive eccetera o per esempio tipo cabbit a tal proposito ci fermiamo un attimo volevo presentare appunto questo prodotto cabbit s3 cabbit è un servizio di object storage geodistribuito ciò significa che è composto da diversi nodi tutti limitati nel territorio italiano che vi consentono quindi una scalabilità e una sicurezza dei dati perché i file sono distribuiti in numerosi nodi nella rete che sono comunque limitati al territorio italiano per anche compliance con le direttive GDPR come vedete non c'è quindi nessun single point of failure perché i dati sono cifrati e frammentati in chunk e i dondati distribuiti su una rete globale peer to peer al sicuro da qualsiasi downtime e data breach inoltre cabbit vi garantisce una protezione da ransomware grazie al logger locking e al versioning perché vi consentono di recuperare qualsiasi file anche se questo viene sovrascritto o se venite attaccati da un ransomware che vi criptografa i file i prezzi sono molto più bassi rispetto ad altri servizi di S3 come Amazon Ezure eccetera e quindi avete anche un risparmio dei costi e tutte le aziende italiane che hanno già aderito a questa iniziativa e che comunque fanno anche da nodi stessi della rete cabbit sono molto famose come Granarolo Bologna Airpod e Amaduri quello che succede è che se un nodo va giù cabbit vi recupera immediatamente quel nodo replicando il dato in un altro nodo e quindi avete la garanzia che i vostri dati non verranno mai persi è una procedura che crea nuove copie su altri nodi inoltre cabbit è compatibile totalmente con tutte le tecnologie attuali come QNAP Sinology BIM eccetera e io per esempio come avete visto in diversi video ho usato anche Airclone oppure la semplice cli di Amazon se vuoi approfondire di più il servizio cabbit non devi fare altro che collegarti al sito o prenotare una demo gratuita o una call di approfondimento ecco ci siamo tornati l'add-on è stato installato adesso non ci resta che andare nella home page premendo ESC andare su add-ons cliccare su Worldlight TV Helper add-on Worldlight TV Helper ok dice che ha installato una hotpix qui andremo a mettere select list vabbè diciamo che deve installare un client di ptv simple client diciamo ok questo serve poi per vedere veramente la tv questo client qua metteremo DTT ok manage list vediamo cosa c'è qua qua non ci serve niente international tv non ci serve niente in teoria è sufficiente uscire adesso da Kodi poi lo andiamo a riaprire come vedete in alto a destra sta caricando qualcosa andiamo su tv e come vedete avete tutti i canali della tv configurati in streaming quindi scegliete un canale qualsiasi avete anche il nome del programma che in questo momento sta girando andiamo per esempio qua e vediamo subito che parte lo streaming di Rayuna in questo caso bene quindi come vi dicevo Kodi ha un sacco di potenzialità poi lo vedremo in futuro per altre potenzialità è possibile fare veramente di tutto con questa applicazione aggiungere diversi addons anche come vi dicevo giochi e quindi è uno strumento molto utile detto questo vi faccio vedere un attimo invece come si installa su fire tv ok sostanzialmente dovete andare su downloader se non avete installato downloader lo dovete andare a prendere dalle mie app comunque andarlo a installare dalle app dello store di Amazon una volta che avete installato downloader lo aprite ok vabbè adesso lui lo sta lo sta installando una volta installato dovete downloader è un'applicazione molto utile perché vi permette di scaricare file vi fa vedere i siti in un modo molto semplice quindi voi basta che cercate Codi ok e come vedete c'è un mini browser che però è fatto apposta per diciamo per scaricare file quindi andate su Codi tv Codi tv questo qua ok qui sotto avete la presentazione voi dovete andare su download ok dopodiché dovete scaricare la versione per android quando l'avete scaricata nel caso mio era arm v7a mi pare poi dipende dalla file stick che avete dalla file stick che avete quando l'avete scaricato lui vi chiede anche se lo volete lanciare quindi lanciate la pk ve lo installa e a quel punto tutto quello che avete visto nel video precedente lo potete replicare tranquillamente anche qua sulla file tv per vedere appunto la tv in streaming anche se non avete un avete già partito l'installazione vabbè poi io qua devo abilitare ancora le impostazioni una volta installato potete anche cancellare il pacchetto quindi come vedete questo è un monitor semplicissimo non ho l'attacco antenna come potete vedere ho solo la corrente e io vedo la tv detto questo possiamo andare alla conclusione ecco avete visto come installare codi su windows e sulla file stick spero che il video vi sia piaciuto poi ne vedremo altre potenzialità di codi vi ringrazio per aver visto il video vi do mettere un mi piace con dei video iscrivetevi al canale ricordate che senza sistemistri ipomatici non funziona al prossimo video inscriviti al canale Grazie per la visione!